Bella ragazzi, siamo i granassi e siamo durati con un nuovo episodio del Disegno del Pokémon Stavo per dire derrotto di Jumon, io non so perché no E infatti mi sarebbe stato l'ultimo Comunque, siamo con un nuovo video di Disegno del Pokémon e quindi andiamo subito Direi, no? Ottimo direi Figo questo, questo mi piace proprio Questo è bello, sì ma questo è tosto Questo è, non so manco che colore Già ho perso 5 secondi Che so Fondamentali Va bene, va bene Fino a qui ci siamo Fino a qui tutto bene Mi fratello ha trovato la sfera Poké Questo è stato un tema di Pokémon Perché abbiamo una cazzata di Pokémon Grandissima, io l'ho Ma porco 2, ma non mi ha fatto per Pokémon Quella sfera Poké di merda Vabbè, il Pokémon era Blastoise, scelgo te No, vabbè, me la devo lanciare, ho paura di rompere Però volevo fare l'effetto No, è troppo figa, regà Sì, è bella pena È troppo bella Bella, bella Vabbè, aspetta Aspetta È troppo figa Vabbè, comunque questo qua era Blastoise Sì, era un Blastoise che non è riuscito a fare Non è riuscito a fare perché il coglione di mio fratello è entrato Vai, lo tocca a me Ma che cazzo Allora Comunque, mentre tu disegni faccio una cosa C'ho la garza dei Pokémon Incredibile Guardate L'avriamo in diretta L'avriamo qui in diretta, basta Io direi anche di non usare in diretta Comunque sì, lo stiamo registrando il giorno della Befana questo video Per chi se lo stesse chiede Vabbè, regà, ma a me è venuta proprio una merda No, però è figo, sai Sì, comunque Fare tutto tranne quello che dovrebbe essere Oh, di Marshmallow Famo Chabby Banni dopo Dagli Se volete Chabby Banni con i Marshmallow, ditecelo Ok, era un Nitorino Era un Nitorino, sì Quanto anto sti cazzi del video Sì, abbiamo Carbone Incredibile Vabbè, intanto ti disegno altri Aspetta, aspetta, aspetta Ma io voglio mangiarle Un'altra Pokéball Incredibile, allora una ma via Un'altra Pokéball Ah, questa è mia E poi È cascata Una caramella Una caramella Sbam C'è qualcosa di grosso Un Pikachu Oh, 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 oh Ma che schifo Che so Il riso ciocco dei polaretti Vabbè Le polaretti li facciano solo i gelati Comprate calza Ok A posto E niente Andiamo al prossimo Pokémon Direi Sì Eeeh 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 E' un bel Pokémon Oh, oh Dai, dai Più o meno L'hai cobinato proprio No, non va bene Oh, oh Oh, oh Vabbè, così Già si capisce Cioè Illuminati Sì Cazzo, non ci trovate quasi qua Qua c'è un occhio Ecco Così Vabbè, questo è facile E' facile, era E' cunt E dobbiamo donare uno per tenere il server No, thanks Vabbè Però no, vorremmo perché Prima non potevamo fare il video Perché era partito il server Comunque a posto Vai Intanto voglio una caramella Io vado Che cazzo Mmm Cos'è? Una giraffa Una giraffa Sta gamba che parte in 62 e mi piace Lascia perdere Bella testa Vero? Vabbè, questi sono Un popolino Lui era Mickey Mouse No, lui era Perzian Era Perzian E' venuto malissimo Perzian, cerco te Lo devo fare Ho questa palletta in mano, lo devo fare? Oh, figo questo, mi piace troppo Mamma mia, mamma mia Mmm, non so che colore farlo, ok Iniziamo così Ah, ah Ce sta, dai Sì Cosa orrenda Stai zitto Ho fatto una cosa veramente orrenda Mi sono ripreso una cifra qua, eh Ah, sì Perché li fu storti Ok Ok Vai, vai Che cosa Perché È lui, dai Sì 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 Lice, perfetto È unico Oh, ma star Sbam Che bello questo Mamma, questo è il pokémon più bello che c'è Più ignorante E il più Mamma mia Mamma che cazzo Ok Oh, non è bloccata la mano, l'ha affonculo Ma non è che cazzo ha fatto Una coscia di pollo Peccato, è tutto aperto Quanto diavolo con la pubblicità Vabbè, comunque dai, si capisce Ma già con sti colori si dovrebbe capire Torracino piccolo La manuna Che è la torracino? Morra cinese Morra cinese piccolo E, e, e La testa di me è un pochettino piccola Vabbè, sì È perfetto Non nessuno lo può disegnare meglio di così Mewtwo Esattamente Due volte Mew Comunque, vai Vai, vai, vai Già, da sta cosa si capisce comunque Proprio easy I baffoni Oh, oh, oh Mamma mia Ma non so più come farlo, però Non so come farlo A me pare di bovigeta Da queste sei mani Queste sono delle posate Due forcchette Bello Incredibile Un po' costitizzato Ok Comunque dai, si capisce perché lui era Alla caccia Io ce la dò accendo Magico Modi, signora, sinistra Figo questo Questo è proprio un po' carino Che però Quando si incazza Fa bollaraggio Guarda che cosa orrenda È una palla No, dai È perfetto così Un bel ricciolino Al contrario magari Sti cazzi Sto stavoletto È finito Vabbè, a parte A parte Orsi Cazzi Sì Lui era Orsi Cazzi Cazzi Orsaz Comunque Anche questo episodio di Disegno del Pokémon è finito Noi ci picciamo sempre al prossimo video Se lasciate tanti like E se ci iscrivete qua sotto Se volete che questa serie continui E se avete indovinato Di Pokémon che abbiamo fatto vedere oggi Che abbiamo disegnato Non mi veniva il termine Comunque Da che nasce è tutto Noi ci picciamo al prossimo video E ciao belli Pissi Pissi In Ciao